Siamo alla pagina politica colpo di scena a Sulmona in vista del turno di balottaggio del 16 e 17 ottobre. Andrea Gerosolimo, ex assessore regionale, candidato alla poltrona di sindaco con una coalizione civica scatena una enorme polemica e dichiara la mia campagna elettorale finisce qui, avevano già deciso tutto da tempo, molto prima della competizione elettorale. Il loro obiettivo non era governare la città ma abbattere Andrea Gerosolimo che parla ai carissimi cittadini di Sulmona dal suo profilo Facebook. Il risultato elettorale venuto fuori dalla consultazione del 3 e 4 ottobre scorsi sancisce la mia personale sconfitta, non quella delle nostre liste e dei nostri candidati che invece hanno vinto o perso. L'ho fatto con la dignità di chi sapeva di affrontare una battaglia durissima contro quel venticello calugnoso che ha sfiorato tanti cittadini. Tutto questo senza aver mai avuto a che fare con problemi giudiziari di qualsiasi tipo. E ancora sono stato sottoposto a un linciaggio mediatico senza precedenti che addirittura ha peggiorato negli ultimi due giorni. Un linciaggio umano che non auguro mai a nessuno di vivere sono in circolazione e in mio possesso manifesti, video, commenti, chat di partiti politici in cui viene denigrata pesantemente la mia persona e non il mio ruolo. E per finire gli elettori hanno deciso che il nostro ruolo è quello della minoranza e questo faremo nell'interesse di Sulmona. La risposta dell'avversario Gianfranco Di Piero in riferimento alle dichiarazioni del candidato Andrea Gerosolimo in merito alle quali mi riservo di argomentare in modo dettagliato ritengo sia necessario intensificare le attività connesse alla campagna elettorale per esigenze di rispetto dei cittadini e dell'istituzione municipale. La coalizione liberamente Sulmona continuerà il dialogo con gli elettori nell'intento precipuo di illustrare al corpo elettorale le proprie idee per la città e le buone ragioni che ne hanno ispirato la Costituzione. Ritengo infine necessario rivolgere un accorato appello agli elettori affinché si rechino in massa alle urne nei giorni 17 e 18 di ottobre.